Bentornati! Scopriamo insieme la carta costituzionale. Oggi, come approfondimento dell'articolo 11 della nostra costituzione, parleremo della disapplicazione. Sappiamo che l'articolo 11 consente al nostro ordinamento, cioè al nostro sistema giuridico, di aderire al diritto internazionale, cioè ad un diritto o comunitario o comunque un diritto superiore al nostro diritto nazionale. Tuttavia, nella dottrina giuridica, nella giurisprudenza, è stata elaborata la teoria dei controlimiti, che serve sostanzialmente ad evitare il verificarsi di antinomie, cioè di contraddizioni, tra varie fonti del diritto. Ad esempio, una contraddizione tra una norma comunitaria e invece il nostro diritto nazionale, oppure tra articoli o doveri derivanti dall'adesione a trattati internazionali e limiti presenti, ad esempio, nella nostra carta costituzionale. Questo significa, in altri termini, che qualora si verificasse una antinomia tra fonti diverse del diritto, la norma in contraddizione, la norma esterna o di origine sovranazionale, in contraddizione con il nostro ordinamento, verrebbe disapplicata, cioè viene recepita ed introdotta all'interno dell'ordinamento nazionale, ma non esplica i suoi effetti. Questa teoria, la teoria dei controlimiti, viene ulteriormente ripresa all'articolo 117, comma primo della nostra carta costituzionale, dove si legge che la potestà legislativa esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, e questo andrebbe da sé, nonché dei vincoli derivanti per l'ordinamento interno, dall'ordinamento comunitario, cioè dall'adesione all'Unione Europea e ai suoi trattati istitutivi e costitutivi, e dagli obblighi internazionali. Ciao, alla prossima!